E allora diamo un benvene arrivato su Millennium, buon venerdì a Davide Esposito che è sindaco di Platania, siamo a provincia di Catanzaro, Calabria. Buongiorno Davide, ben arrivato su Millennium. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Allora, torniamo a parlare appunto di questa iniziativa appunto Ripuliamo la città veramente fantastica che sta riscuotendo tanto successo, aderiscono sempre più comuni, aderiscono sempre più cittadini per avere la città pulita e poi di avere la città pulita anche testimonianza di un buon funzionario. Anche governativo, gestionale, territoriale. Allora, raccontaci Davide, visto che tu mi hai detto in maniera simpatica, diamoci del tu sindaco, raccontaci come mai anche Platania ha aderito a Ripuliamo la città e quali sono stati a tuo avviso i benefici che avete portato insomma alla città. Sì, allora, l'amministrazione comunale di Platania ha aderito a questa iniziativa nel mese di luglio del 2021. Questo servizio ci ha consentito di ridurre e comunque di risolvere il problema dell'abbandono sul suolo pubblico di quei veicoli che non sono più idonei alla circolazione. I benefici che se ne traggono a questo servizio è sicuramente la gratuità del servizio di rimozione e sicuramente la tutela anche del decoro urbano che così viene maggiormente preservato. Chiaro, quindi è tutto molto comodo, è tutto molto pratico, snella la procedura, tra l'altro è gratuito, quindi c'è anche un risparmio per le casse pubbliche. Certo, certo, certo. Lo consiglieresti, Davide, anche naturalmente ad altri comuni? Sì, senz'altro, anche perché la cosa che mi ha colpito molto è l'ottima organizzazione e anche la professionalità degli operatori nel rendere questo servizio, quindi io la consiglierei senz'altro a tutti. In questo periodo Platania, Davide, che cosa sta portando avanti? Ci sono altre attività che state svolgendo? Sì, sono anche altre attività e sempre comunque siamo particolarmente attenti anche e soprattutto alle problematiche ambientali e vogliamo anche istituire la giornata ecologica, un'iniziativa da svolgere con un gruppo di volontari per ripunire i canali e i boschi che sono ricettacoli di rifiuti di ogni genere. Molto bello. Perché pensiamo che dobbiamo dare maggiore attenzione proprio a queste problematiche. Molto bello, ognuno può fare la propria parte, non solo a Platania, ascoltatori di Platania e di tutta Italia, in questo momento dedicato a tutte le città qui su Millennium, io ricordo che grazie a Infinity Car tenere pulita la città da auto e da tanto altro aiuta tutti veramente a vivere meglio. Se siete dei semplici cittadini e avete magari un'auto da demolire o la vedete per strada, dovete rivolgervi subito a Infinity Car. Chiamatelo 0248 40 12 56. Andate sul sito di Infinity Car, compilate il modulo, è molto facile, lo trovate immediatamente. In questo modo risolverete sia il vostro problema che quello della vostra città. Per una città pulita, ringraziamo Infinity Car e tutti i comuni delle città d'Italia che ogni giorno si adoperano sul nostro territorio. www.infinitycarsnc.com In questo caso ringraziamo ancora Platania. Sindaco, che dire? Buon estate, tante buone cose. Davide Esposito. Grazie, grazie. Tanto turismo, mi raccomando. Grazie, un saluto a tutti.